Oltre il flusso massimo, vi faccio vedere un esempio di esercizio. Finora avete visto un algoritmo. Voi come fate sopra un esercizio? Non è programmazione dinamica, non è gridi su cui posso fare mille esercizi. Questo è un algoritmo. Come fare un esercizio su minimum spanning tree. No, quello era un esempio. Questo invece genera soluzioni. Vi faccio vedere come. Allora, la prima cosa da notare è che questo è solo la punta dell'iceberg. Quello che vedete è un algoritmo, è un problema in cui c'è una capacità massima sugli archi. Ma potreste avere anche una capacità minima. Si chiama edge demand. Significa che dovete almeno avere una certa capacità attraverso un certo arco. E questa è una versione diversa del problema. Poi, ogni nodo potrebbe essere una sorgente, cioè generare del flusso. Come per esempio, o meglio, più di un nodo potrebbe essere una sorgente, generare del flusso. Come per esempio, una fabbrica. E più nodi, oppure un produttore agricolo, e più nodi potrebbero consumare flusso dei supermercati. E a quel punto dovete tenere conto di questi aspetti. E poi potreste avere un min cost max flow. Al flusso è associato un costo. Quindi, passare, non so, dell'acqua da me a lei costa 2 euro al litro. Invece, passarla a lei costa 1 euro al litro. Ma la capacità massima è uguale. Quindi io decido, ma sai che c'è? La faccio passare a lui, perché costa meno? A parità di flusso massimo, prendo quello con costo minimo. E questo complica ulteriormente il problema. Se volete avere un'idea... Io non copro tutta questa roba, perché questo sarebbe un altro corso ancora. E ovviamente ne avrete abbastanza a un certo punto. Però, se siete interessati e volete una versione light, c'è questa versione di 8 pagine, che è un'azione di un collega americano, da cui trago spesso e volentieri ispirazione. Se invece volete la versione pesante, c'è un libro gratuito di 273 pagine, per dirvi ci potrei fare tranquillamente un altro corso. L'altra cosa che volevo dirvi è che sono convintissimo che, per esempio, Amazon usi queste cose tantissimo, perché nella logistica queste cose sono di un'importanza fondamentale. La rete di flusso base è questo, ovviamente, perché poi man mano che aggiungete dettagli diventa un problema sempre più realistico. Quindi, SDA, Bartolini, DHL, mi trasportano una serie di cose. Qual è la capacità massima che un contratto con SDA mi può garantire? Che costi? Allora, meglio spedire con SDA, con Bartolini, eccetera, eccetera. Min cot, max flows, e con, magari, edge demands. Cioè, devi trasferire almeno un tot perché è nel contratto. Non puoi dire, sai che c'è, a te non ti spedisco niente perché ho scoperto che costi tanto. No, abbiamo già un contratto, almeno X spedizioni te le devo dare, eccetera, eccetera. E il numero di problemi con cui, perché i problemi che potete affrontare con questo sistema è enorme. E ciò vi farò vedere questo, quindi, e dopo faremo degli esercizi semplici. Però, vedete, airline scheduling, la cosa interessante forse è questo, image segmentation, gli algoritmi che magari avete utilizzato sul web e caricato una foto e ti toglie, cioè ti evidenzia un volto e ti toglie lo sfondo, vengono basati su questo tipo di algoritmi in cui sostanzialmente si calcola un flusso fra i pixel e si cerca di massimizzare una certa proprietà e poi vedremo di minimizzarla un'altra e quindi si ottiene sostanzialmente, si va a cercare il massimo stacco, diciamo, come tipo di soluzione. Anche qui, sempre Jeff Erickson, se volete vedere qualche applicazione, benissimo. Quello che potremmo guardare è questo, e dopo ho finito, speriamo che non piaccia via Bruno. Allora, avete un insieme J contenente N job. Pensate, l'ISI assume 20-150 ore e ha da fare dei lavori. Alcuni sono, che ne so, cambiare la carta dei stampanti, capita, altri invece sono fare assistenza qui e dovete sapere come funziona questa cosa. Non lo sa nessuno. Ok? C'è una relazione fra i job e i worker. Ovvero, alcuni worker, alcuni 150 ore, sono in grado di fare un certo job. Altri no. E volete trovare un matching, un assegnamento job-worker che sia massimale. che il maggior numero di 150 ore sia occupato. Perché se voi prendete quello che sa sistemare la rete wireless e gli fate cambiare la carta da stampante, poi se avete il job da fare, sistemare la rete wireless e non lo sa fare nessun altro, vi siete fregati. Come facciamo? Vedete questa relazione qua che è rappresentabile con un grafo. Qui ho job, qui ho worker. E questo è un grafo bipartito, ricordate? Abbiamo fatto un esercizio tantissimo tempo fa. Da un lato ci sono tutti i job, dall'altro ci sono tutti i worker. Non ci sono relazioni job-job, worker-worker. Sono solo relazioni da un lato all'altro. Vogliamo massimizzare questa cosa. Come possiamo fare? Cioè vogliamo massimizzare il numero di job che sono assegnati. Ci sono anche altri algoritmi. Questo in realtà è overkill come algoritmo per questo tipo di problema. Ma un modo per farlo è questo. Lo trasformo in un grafo, una rete di flusso. Ho un insieme, una sorgente, una super sorgente, e un pozzo, un super pozzo, a tutti gli archi esistenti, assegno il valore 1. Vedete qui che ce n'è due entranti? Se io decido che questo è occupato da, cioè se io decido che questo A è assegnato a tre E, poi lui non sa cosa fare. Perché lui può andare solo lì. Invece A poteva andare di qua. Quindi se il mio algoritmo sceglie questo percorso qua, poi il meccanismo di riparazione può fare in modo che la fine venga assegnato sopra. E quindi qual è il punto? Il punto è che se io ottengo il numero massimo di lussi di valore 1 che posso portare dalla sorgente alla destinazione, ottengo anche il numero massimo di assegnamenti che posso fare job worker. E ho finito. Quindi, eccezionalmente non vi chiederò il codice, vi chiederò un disegno. Cioè mi disegnate come dato un problema, lo trasformate in un problema di flusso.